vai piede scacciapiede e giù con due mani però bravo dai 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 noi impariamo velocemente sei Ale vai passetto e giù bravo Ale tienila blocca la sicuro buona larga le gambe aspetta lo tolgo i piedi Paolo larga le gambe larga le gambe non stare dentro la porta un passo fuori un passo e giù bravo